Sonia Bruganelli in tv, a Verissimo, riceve a sorpresa il tenero messaggio del figlio Davide Bonolis. Ora a Trieste per motivi di lavoro. Il 18enne è stato acquistato dalla Triestina calcio e giocherà con la loro casacca in questa stagione. La produttrice 48enne, opinionista per il secondo anno di seguito del GF VIP. Si emoziona e si commuove. Poi svela, il distacco da casa l'ho vissuto malissimo. Paolo sta anche peggio di me. Sonia è anche mamma di Silvia, la primogenita 19enne, e Adele, 13. Attaccatissima ai pargoli. Con Davide ha sempre avuto un legame speciale, per questo doverlo vedere andare lontano le è spiaciuto molto. L'ho vissuta malissimo, è successo tutto così velocemente, rivela le due femmine sono più indipendenti. Se ne stanno spesso in camera loro. Davide invece viveva la casa, si faceva sentire. Ora io arrivo e lui non c'è. La Bruganelli, moglie di Bonolis, però alla fine ammette, ma è giusto così, ha 18 anni. E' più maturo. Ha triste, è difficile raggiungerlo. Paolo, sta anche peggio di me, si sente solo. Ciao mamma, questa volta la sorpresa te la faccio io. In bocca al lupo per la nuova avventura col grande fratello vi pledice Davide nel suo videomessaggio io sono a Trieste per questa avventura con la Triestina, darò tutto me stesso e devo dire grazie a te papà per quel che avete fatto. Per avermi reso così determinato e volenteroso. Vi voglio bene. Sonia si commuove. Ma aveva un gobbo? Impossibile si sia espresso in un italiano così a ferma sto sdrammatizzando. Sono commossa. Devo dire, lui ha una dote, è bravissimo in tutti gli sport. La scuola è il suo lato debole. Ed è bello. La scuola è la scuola. La scuola è la scuola.